Un bambino in bicicletta è stato investito da un'auto a spio intorno alle 16.20 di oggi domenica. L'incidente è avvenuto a Magra in via Campo Sportivo all'altezza dell'intersezione con via Gresilini. L'auto in Fiat Punto Grizia stava transitando in via Campo Sportivo proveniente da via Pista dei Venti quanto per cause che sono in corso di aggiornamento da parte dei carabinieri investiti col bambino in bicicletta. L'impatto è stato molto violento tanto che il piccolo ha spondato col suo corpo il parabrezza dell'auto ed è stato poi sbalzato a terra. Immediati soccorsi. Il giovane ciclista è stato trasportato con l'ambulanza del suo M118 in codice giallo all'ospedale di San Corso. Ha riportato alcuni traumi importanti ma non è per fortuna in pericolo di vita. La notizia è in aggiornamento sul nostro sito.